L'assessore Fabio Conte è stato assessore proprio con la giunta Biancardi che sta per terminare al bilancio e alla cultura. Come sta il bilancio e come la cultura d'Avella sta migliorando, si sta perfezionando? Bella domanda, buonasera innanzitutto a Bassi Erpinia, entro subito nel tema, cerco di dare una risposta breve ma anche repilogativa di questo percorso che noi abbiamo fatto in questi cinque anni. Infatti una delle noti dolenti dal momento dell'insediamento di questa amministrazione è stato lo squilibrio finanziario, lo squilibrio dei conti e sin dai primi giorni abbiamo cercato di riconciliare un po' tutte le dinamiche amministrative, tutte le vicende che interessavano il Comune cercando in qualche modo di verificare la debitoria, le passività dell'ente. Una volta che siamo venuti finalmente a capo, dopo qualche mese dall'insediamento siamo venuti a capo delle passività che riguardavano il Comune di Avella, abbiamo intrapreso un percorso di risanamento che ad oggi ha portato il Comune di Avella a onorare la debitoria pregressa per circa 4 milioni e mezzo di euro e questo ci dà una prospettiva positiva perché come è stato sancito nel programma amministrativo 2016-21, dal 2017 sarà finalmente possibile ciò che i cittadini hanno richiesto in questo periodo che è quello di avviare una graduale riduzione dei tributi locali e quindi partendo dalle aliquote addizionali comunali all'IRPEF, addizionale IMU e rivedere le tariffe del servizio idrico integrato. Quindi un altro anno di sacrificio e poi iniziamo a ridurre un po' le tasse. Sottoscrivo, sì, avviamo questo percorso di riduzione di imposte e tasse perché è stata la cosa che più di tutti i cittadini ci hanno richiesto in questi 5 anni per cui, proprio perché abbiamo affrontato questa sfida con enorme responsabilità e serietà e abbiamo onorato la debitoria pregressa, ora finalmente possiamo godere di una buona amministrazione che abbiamo messo in atto per cui trasmettere anche queste note positive ai cittadini a partire dal 2017. Sperando ovviamente di essere riconfermati però. A proposito di riconferma, cosa si aspetta il 5 giugno dalle urne? Il 5 giugno mi aspetto di risegnare la storia, vedo il sindaco che è qui vicino a noi e praticamente Avella si avvia a incidere una cosa molto importante, cioè avere un sindaco riconfermato nel secondo mandato. Questo perché? Perché sicuramente Biancardi è stata una guida fondamentale per l'amministrazione, per i suoi consiglieri, ma soprattutto per il Paese e per i cittadini. È stata una persona molto consapevole del ruolo e delle responsabilità che gli compedevano. Quodidianamente non ha mai abbassato la guardia, ha condotto l'azione amministrativa sempre in un crescendo e oggi, dopo il 5 giugno, consacrerà la sua permanenza nell'esercizio del mandato di sindaco anche per i prossimi 5 anni.